ciao a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo gameplay oggi sarà diverso perché non andremo a vedere isabella al lavoro oppure con le amiche o con luigi ma oggi cercheremo di costruzione infatti come avete letto dal titolo oggi andremo a costruire un nuovo ritrovo appunto ideato per le ladies and tacky allora di solito come vado a costruire una casa diciamo che uso tre modi per costruire una casa uno prendendo ispirazione da internet quindi cercano delle ville oppure mi capita di viaggiare quindi vedere delle case che mi portano all'ispirazione quindi a chiare case che poi porterò su di sims 4 per esempio appunto questa casa che è stata ispirata da una casa che ho visto oppure per esempio una casa su cui ho già un'idea quindi come deve essere una stanza come deve essere fuori come per esempio questa casa qui dove all'interno ecco non so se l'avete vista all'interno c'è una stanza che all'interno c'è un salotto oppure per esempio vado in modalità costruisci e creo la casa lì al momento quindi come è sempre questa casa che ho lì la casa al momento senza idee senza ispirazioni senza prendere senza vedere case da internet oppure al vivo oggi li trovo che ho costruito grazie per la mia idea all'inizio nel pensare su come sarebbe stato il locale avevo la mente vuota cioè non avevo nessuna idea in mente poi pensando ripensando li risentacchi risentacchi mi sono detta perché non creare un lotto a forma di scarpa col tacco e avendo un labirinto che forma la scritta ladies quindi ho preso un foglio mi sono messa a creare questo tacco cioè questa scarpa col tacco e con questo labirinto è riuscito fuori questo è una bozza su come sarà il lotto ovviamente il lotto subirà delle cambiamenti perché un conto è pensarlo e disegnarlo e un conto a riprodurlo perché sicuramente capiterà che il lotto sarà più piccolo e quindi ladies non c'enterà tutto quanto e quindi dovrò accocciarlo o dovrò dividerlo oppure accadrà che la ladies sarà più piccola della locale quindi a forma di scarpa col tacco oppure accadrà del tipo che la punta del tacco sarà diverso perché conoscendo i quadratini di sims 4 quella diagonale non è la forma che corrisponde alla diagonale di sims 4 oppure succederà che il diamantino qui alla fine non verrà messo alla fine perché magari non c'entra e quindi verrà messo questa parte qui rifatto che questo questa è la mia idea questa è la sala locale delle ladies e intacchi quindi adesso sai cantare su di sims 4 e provare a creare questa questo lotto io mi auguro di riuscirci questo è veramente un'idea sono partita ecco con l'idea di fare questa cosa io ho detto spero di riuscirci quindi ragazzi buona visione ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti